Davvero belle e suggestive le immagini dell'infiorata di Spello che abbiamo visto nel servizio prima della pubblicità, ma altrettanto belle. Saranno le immagini e le emozioni che proverranno questa sera dai partecipanti del pellegrinaggio Macerata Loreto, giunto alla 45esima edizione. E io voglio salutare, perché lo vedo già inquadrato, Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore di questa marcia storica che davvero in Italia è diventato un punto di riferimento nel pellegrinaggio anche verso la pace che Papa Francesco ha tanto auspicato. Buongiorno Don Giancarlo, eccellenza, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno ed evviva te e padre Pio che a me piace molto e seguo sempre. Grazie, grazie Don Giancarlo. Allora io mi devo scusare perché l'ho fatta attendere qualche minuto in più rispetto al concordato. Oggi ho i minuti contati. Però cerchiamo di essere diretti, chirurgici. Partiamo allora da questo pellegrinaggio a piedi. 45 anni fa la prima edizione, questa sera si ritorna finalmente a pieno regime, potremmo dire, dopo l'esperienza del Covid che ne ha limitato tanto. davvero la portata e anche ovviamente il numero di partecipanti. Il tema è chi cerchi. Ecco, ci faccia lei una sintesi, eccellenza, di tutte le aspettative che ci sono di questa importante iniziativa. Partiamo subito dal tema che è proprio significativo, perché il pellegrinaggio ci educa a vivere. E vivere significa trovare le risposte essenziali della vita. E le risposte non le troviamo sulle nostre discussioni. Diceva il caro e grande Don Milani, che non serve la mentalità cittadin-borghese intellettuale studentesca, ma serve incontrare, così ho imparato da Don Giussani, serve imparare a conoscere e seguire colui che ci libera dal male, perché è Dio in mezzo a noi. E Papa Francesco ha commentato questa domanda che Gesù pone a Maria Maddalena proprio la domenica mattina. E il Papa ha detto, chi cerchi non che cosa cerchi, perché le cose non bastano per vivere. Per vivere occorre il Dio dell'amore. E allora riprendiamo oggi, questa sera, il pellegrinaggio come fosse la prima volta. Grazie a tutti voi che con simpatia ci seguite. Le voglio fare un'altra domanda, eccellenza. Mi davvero rubo pochi minuti del suo tempo, perché l'appello per la pace è importante. Lo abbiamo detto, Papa Francesco ha voluto che questo pellegrinaggio fosse dedicato in maniera speciale alla pace che tutti quanti auspichiamo. E la partecipazione dei giovani, che sono coloro i quali devono in qualche maniera costruire la pace del presente, ma anche quella del futuro, è significativa da questo punto di vista. Io vorrei chiederle, di quale responsabilità sono investiti attraverso il pellegrinaggio di stasera? Secondo me i giovani sono molto indecisi in questo tempo, perché si sentono tutti i ragionamenti di questo mondo e non si sa che fare. Si sente l'incapacità di comprendere e l'impossibilità di realizzare qualcosa. Allora, ecco, il pellegrinaggio educa invece a testimoniare in maniera clamorosa, forte, attraente, a testimoniare come si può vivere in pace con tutti. Infatti al pellegrinaggio vengono non solo i cristiani, viene un gruppo di musulmani, vi vengono i credenti, non credenti e racconto sempre, l'ho raccontato anche a Papa Francesco, un episodio, due episodi. Uno, una ragazza russa anni fa venne al pellegrinaggio con una squadra femminile di pallavolo. La interrogo perché tutti sentissero questa testimonianza e chiedo perché è venuta al pellegrinaggio? Risposta perché sono atea e la mia sorpresa pone ancora una domanda. Ma allora, e lei risponde, perché voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. I giovani vogliono vedere l'esperienza di pace che si può vivere contro, diversamente, da come invece la politica o la società educa. Un ultimo esempio, una volta un parroco mi ha detto ho visto al pellegrinaggio un gruppo di giovani che frequenta il bar più malfamato di fronte alla mia parrocchia, mai visti in chiesa. Ho detto, io andrei a chiedere. Lui è andato a trovare quei ragazzi al bar e ha detto, perché siete andati al pellegrinaggio e non venite in parrocchia? Uno ha risposto, noi lì ci andiamo perché ci sentiamo coinvolti. Quando ho raccontato questo al Papa, il Papa subito mi ha detto, ecco il verbo adatto per i suoni, coinvolgerli. Il pellegrinaggio li coinvolge nell'esperienza del bello, del buono, della pace che si può vivere insieme in qualsiasi condizione. E il giovane Vescovo Becerrica come sarà coinvolto? I miei acciacchi dopo il Covid, il peso degli 83 anni mi rende tanto incerto su come potrò fare tutto il cammino dei 28 chilometri e guidare tutta la notte. L'anno scorso avevo tanta paura e invece la Madonna mi ha dato il coraggio di arrivare fino in fondo. Quindi io ho fiducia che anche quest'anno la Madonna mi dà il sostegno perché noi vogliamo tanto bene alla Madonna, perché è la strada per arrivare a Gesù. San Padre Pio più volte dice che chi invoca Maria, come anche San Bernardo, non va mai fuori strada. Grazie. Grazie, grazie di cuore, grazie di cuore a Monsignor Becerica, l'abbracciamo davvero forte, l'aspettiamo qui a San Giovanni Rotondo, eccellenza. Quando vuole noi siamo qui. Sono già venuto anche a marzo di quest'anno, grazie. L'aspettiamo ancora, grazie a tutti ascolti nottele Padre Pio. Grazie, grazie di cuore a Monsignor Becerica e buon pellegrinaggio alle migliaia di partecipanti che questa notte illumineranno il tratto tra Macerata e Loreto. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme per l'ultima parte di Just Today. Grazie a tutti.